C'è un tuo commento? Lo sport è unione, è giocatore di squadra, è aiuto reciproco con lo sport, è fondamentale per quanto riguarda la solidarietà. Le mie ragazze, la squadra che alleno, credo che manda proprio un messaggio di solidarietà, di come si ottengono i risultati facendo insieme. Credo che la donazione di sangue sia un atto di solidarietà molto importante per chi ha bisogno e credo che tutti noi dobbiamo avere anche questa responsabilità. Grazie, grazie mille.